Musica Dunque noi ci troviamo qui Qui abbiamo un isolotto Qui ne abbiamo un altro E qui abbiamo la nebbia Io direi di andare dritti dritti qua a sto punto Direttamente a... A Lemuria Dipende se il gioco ce lo fa fare Però quella cesta Non so perchè mi ha fatto molto ridere il riccio di mare Allora però io una cosa la vorrei fare prima di partire Vorrei tornare non a Kibombo Ma qui a Daila Voglio vedere Ok qui siamo vicino al tempio del dio del mare Direi che è un buon approdo Che tra l'altro qui io ci volevo tornare Appunto Prima di tutto andiamoci a riposare un pochino Dunque Vendiamo tutto ciò che è inutile Ok qui abbiamo delle pozze d'acqua Ma in teoria non mi sembra siano utili Giusto? Andiamo qua dentro il tempio E vediamo un attimo qui Qui Sì Qui sì Serve E credo che la goccia qui sia pioggia Uno Due Che poi il signore qua dietro Io sono qui nel tempio Adesso andiamo dietro Zack E ci rubiamo la pietruzza Hai ottenuto Lacrima di mare Lacrima di mare Un gioiello dagli occhi del dio del mare Ok è uno strumento raro Quindi non è neanche una psicoenergia come pensavo Non c'è più niente per voi Adaila Fate attenzione durante il vostro viaggio verso Madra Grazie Avete derubato questo posto che era stato inondato Quindi andate via del cogli Fuori dal cazzo E ok Daila A posto Qui abbiamo il tempio di Kandor E non mi sembra ci fosse niente Negli alti piani non c'era nulla E qui invece abbiamo il continente del vecchio gioco Che appunto in teoria Non possiamo visitare In teoria Nel pratico Vediamo Voglio andare al tempio del dio del mare E vedere se abbiamo lasciato lì Indietro qualcosa In teoria Forse c'era qualche pozza d'acqua Nel pratico adesso vediamo Qualcosa da fare c'era invece Meno male che siamo tornati indietro allora Ecco qua Allora Che poi se non ricordo male Qui dove c'è questo muretto qui E dove abbiamo trovato Il nostro digin di vento qui Oh oh Ma qui allora prosegue un bel pezzo Altro che Allora Wella Bello lo sfondo col mare Molto bello Comunque Tac Ecco qui Non so se è uno shortcut O il modo di proseguire Mi sa che è il modo di proseguire Esatto Chissà se c'è un altro digin qui Qua si torna indietro Quella probabilmente è lo shortcut Per poi tornare indietro da questa parte Ok Calmi un attimo Facciamo le cose Con la dovuta calma Ok Qui pure c'è il modo solo di tornare indietro Allora Allora Qui si rompe C'è Posso spostarmi io? No Non mi posso spostare Devo solo farmi Trasportare Ok Ok Quindi questo è il modo di ritorno Mmm Il punto è che Non vorrei che salendo Poi si resetta la zona E mi sa proprio di si sai Ah Ecco dove siamo Ho capito dove siamo adesso Ok Ok Allora Calmi un attimo Facciamo le cose Con un attimo Di calma Perché mi sa che No ho sbagliato Devo fare rivelazione Mi sa tanto che Abbiamo fatto bene A prendere il L'occhio del dio del mare E venire qui La statua Ricorda quella del tempio di Daila Ecco te Uuu Tutto congelato? No Si sta alzando Il livello dell'acqua Aha Cosa interessanti Succedono qui allora Dove cattio stiamo andando? Uhu Buongiorno Perché ho la sensazione Che più avanzeremo Più c'è la possibilità Che troveremo Tipo una lastra Hmm Ho questa sensazione Non ne sono sicuro Che poi I nemici che troviamo Sono ancora nemici Appunto della prima zona Non sono neanche Diciamo No Cosa sei? Non è una Una psicoenergia Giusto? Mi sa che è Un oggetto Craftabile Vero? La punta destra A Genna La punta destra Una punta di un tri Oh il tridente Aha Diamo la Pierce Questo Il tridente Il tridente Me lo ricordo Ma Non mi ricordo Cosa serve Sinceramente Però qua ci sono Delle frecce Mi ricordo Che c'è il tridente Nel gioco Ma non mi ricordo Se è un'arma O uno strumento Da utilizzare Torniamo di sotto Eccoci qua Dunque Io Come faccio Ad andare di là Sai che Mi sa che non posso Vabbè In ogni caso Eh no Però qui c'è una via A meno che non sia solo di Eh no In teoria la via È questa qui Questa qua sopra Quindi noi siamo sempre stati Lì vicino Ma non l'abbiamo mai saputo Intrigante Tac Dunque Ora che siamo Andati Nella parte Diciamo Importante Ecco qua Torniamo un attimo Indietro E proviamo a prendere Quella cesta Che c'era Di lì Allora Proviamo a scendere Che qui Mi sa che Esatto L'acqua si tocca E andiamo Qui che c'era Il pezzo rotto Qui non c'è nulla Qui c'è La corda Da utilizzare Esatto E Aspetta Io come vado Di lì però Ah che scemo Ok Non avevo visto Il pezzo In cui potevamo Uscire L'asta Arrugginita Oh Oggetto Craftabile Ovviamente Molto debole Quest'asta Arrugginita Al momento C'è Relativamente Inutile Ci servirà Più avanti E in teoria Basta Non mi sembra Ci fosse altro Da fare Qui nel tempio Del mare Giusto Proviamo giusto Un attimo Per scrupola Farcela All'inverso Per vedere Se c'è Qualcosa Che abbiamo Lasciato indietro Ma ne dubito Eh esatto Non c'è nulla A posto E anche il tempio Del dio del mare Andato Voglio solo Vedere se posso Vendere La lacrima Però Visto che Non credo Mi serve Mal che vada La ricompriamo 225 monete Wow È un pezzo raro Ovviamente Mal che vada Appunto La ricompriamo Ehi ma scusami Questa non è La lacrima Che si trova Nel tempio Vabbè ti do 250 monete Tieni Sai cosa Anche per liberarmi Un attimo Spazio Visto che al momento Non li usiamo Io Questi tre Li venderei Poi mal che vada Appunto Li ricompriamo Sono pezzi rari Costano Relativamente Un cazzo Questo Il piero Costa 250 Anzi Costerà 300 monete Oh Non ce l'hai tu Ce l'ha L'armaiolo O lo spadaccino Vedi Ce l'ha Quello delle armi Ok 333 666 999 Perché no Il prossimo Quanto costa 1 1 1 Poi l'altro 2 2 2 Che bello Vedere però Quella lama Sorale Dio mio Ok E con questo Questa zona L'abbiamo Rifatta tutta Proverei Giusto Per sfizio Tornare un attimo Dalla afra E poi Proseguiamo Verso le muria Se il gioco Ce lo permette Dunque Per al afra Dritto dritto così Dritto per dritto E abbiamo già incontrato Il nostro primo tritone E gli abbiamo sparato in faccia Un megido Bravissimo Che tra l'altro È probabile che non posso Neanche attraccare Esatto Qui Perché ci sono gli scogli Dobbiamo trovare Una spiaggetta Dove fermarci O qualcosa di simile Che a proposito di spiaggetta Scusa un attimo Noi c'è tutta questa zona Che possiamo visitare E io Prima di andare qua A questo punto Ci proverei Ottimo Bravissimo Valoroso E Se possiamo Vediamo Io posso attraccare No mi serve per forza Una spiaggia Non penso sia avanzato Esatto Perché la nave È ancora lì Ma proprio davanti Alla porta della città Eh Fosse avanzato O l'avessero riparato Probabilmente adesso Non c'era più il modello Probabilmente se E quando la ripareranno Ci ripenseremo più avanti Cielo Cialo Cielo Cielo E Devere Cielo Cielo Grazie a tutti.